Sfida Salvezza 12 risponde il recco, dalla distanza ci prova la Xir e segna! Bombarda scagliata da più di 30 metri che sorprende Pulidori, si torna sul pareggio, è 1 a 1 17 sali in cattedra Zunino, si accentra, lascia partire il tiro, grosso para, arriva Rebecca che appoggia e Chiarabini non può sbagliare! Gli ospiti tornano in vantaggio grazie a Super Mirko Chiarabini, 1 a 2 Tretottesimo Rebecca per Panepinto che chiude il triangolo, traversone basso per l'entrante, craffa e la deviazione tradisce Grosso! Terzo gol del Ligorna che ora si trova in doppio vantaggio, è 1 a 3 42esimo, piove sul bagnato, espulso Lazzoni per somma di ammunizioni Inizia il secondo tempo, il Ligorna è ancora avanti, testa di Nappello ma grosso devia fuori 65esimo, la possibile svolta, angolo recco, serie di rimpalli, la sfera arriva, Del Nero e segna il gol che riapre la partita! Un recco in 10 uomini ha la forza di accorciare, è 2 a 3 72esimo, ancora ospiti, ci prova De Persis, ma grosso devia in angolo 90esimo, episodio dubbio, Picasso passa a Dagnoni che viene steso in area, decisione, simulazione L'arbitro non ha dubbi e ammonisce Dagnoni, avrà preso la decisione corretta, a voi la sentenza 93esimo, contropiede Ligorna, lancio lungo, esce grosso, Zunino interviene, la palla resta lì arriva Valenti che non può sbagliare e chiude i giochi nelle proteste dello sport in greco gioco, partita e incontro finisce 2 a 4 per il Ligorna